Antonio Baldalchini dal 21 di dicembre ha aperto questo nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco qui a Penne, era importante visto che siamo a ridosso di una zona anche montuosa. Sicuramente siamo felici di questo evento, di questo avvenimento perché era nei nostri intenti da anni, quindi credo che sia stato per noi e per tutta l'area perché questo presidio dei Vigili del Fuoco, dell'emergenza, copre un intero territorio che si compone di nove comuni. Quindi diciamo è un'area che ha sofferto per molto tempo, un obiettivo importante che si è raggiunto certamente con uno sforzo corale. Il nostro obiettivo è anche quello di far diventare questo stabile, questo edificio, farlo diventare una cittadella dell'emergenza, della sicurezza.